Se stai riscontrando problemi riguardo ad installare programmi oppure aggiornamenti su Windows Update sul tuo sistema operativo e ti esce così l'errore 0x800 7000 e poi il 5 alla fine questo codice errore è possibile risolvere il problema andando direttamente sulla cartella AppData quindi vai direttamente su esplora risorse file vai su questo locale quindi disco locale C scendi fino a giù fino a trovare utenti andiamo direttamente su tuo nome quindi utente profilo qua sopra ed eccolo qua AppData ovviamente se non riesci a vedere questa cartella AppData devi semplicemente andare su visualizza mostra elementi nascosti e tieni attivo questa opzione così facendo farà uscire la cartella AppData tasto destro sopra mostra tra opzioni proprietà ora diamo così il permesso quindi dobbiamo aggiungere andiamo su modifica facciamo aggiungi qua sopra vai a scrivere ever tanto per controllare i nomi everyone fai ok e aggiungiamo così everyone controllo completo così facendo diamo il controllo completo a tutti per la cartella AppData e fai applica una volta fatto fai continua fai continua fai sempre continua sta caricando tutti i dati in posizione dell'informazione di sicurezza facciamo continuo una volta fatto puoi anche chiudere questa cartella chiudiamo qua vedi se devi fare qualche aggiornamento su Windows Update quindi verifica disponibilità aggiornamenti vedi se ti fa scaricare e installare qualche aggiornamento poi una volta fatto andiamo direttamente sul cmd prompt dei comandi e segui come amministratore una volta fatto in descrizione ti ho lasciato così un comando da inserire sul cmd facciamo copia e lo inseriamo qua il comando eccolo che si può caricare in modulo facciamo quarts sbagliato a reg svr 32 quarts il file quarts.dll e facciamo invito ed eccolo qua dll registro server in quarts.dll è riuscito abbiamo inserito così il file dll diamo un attimo qua cmd di nuovo prompt dei comandi esegui come amministratore e fai sì facciamo così una scansione sul registro per vedere se ci sono file danneggiati sul sistema facendo sfc spazio slash scanno e fai invio avvio in corso dell'analisi del sistema aspettiamo che se ci sono dei file dannosi andrà così a ripristinarli e ad aggiustarli anche quindi non ti resta che aspettare così la scansione poi una volta finita così la scansione ti ho lasciato in descrizione altri comandi da inserire ad esempio il dismo online clean ape image questo qua tutte e tre vanno però inseriti sul powershell quindi vanno inseriti sul powershell basta che scrivi qua sopra powershell windows powershell esegui come amministratore vanno eseguiti tutti e tre in ordine cominciando da questo qua check health poi scan health e poi questo qua restore quindi andiamo a fare copia lo inserite qua sopra non sono stati rilevati danneggiamenti dell'archivio dei componenti quindi per l'archivio è tutto a posto quindi non abbiamo problemi il secondo comando andrà così a fare una scansione devi anche aspettare un bel po' di po' due o tre minuti strumento gestione e manutenzione immagini è partita così la scansione poi una volta che è arrivato al 100% se ti dice che non è stato trovato niente oppure hanno ripristinato alcuni errori passa al terzo comando fai copia lo inserisci qua sotto a questo 100% come puoi vedere qua trovate i file danneggiati e ripristinati puoi anche chiudere facendo exit qua sopra scrivi exit come ho detto una volta arrivato al 100% inserisci il terzo comando poi una volta fatto tutte queste procedure riavvia il tuo sistema per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 ciao